Amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazioni autosportive. Oggi vi presentiamo, ne abbiamo già presentate tante, un Alfa Romeo Stelvio, questa è la versione con forse meno cavalli o una di quelle che ha meno cavalli, col motore diesel, un 2002 con 160 cavalli. Lo stesso motore poi ha progressivamente più cavalli, vengono fatte appunto delle modifiche in parte elettroniche e in parte ovviamente anche meccaniche, quindi nel momento in cui non ci sono dei blocchi particolari su farfalla o cose del genere, noi facciamo sempre una mappa e come ben sapete, vi abbiamo spiegato tante volte, il range di incremento dei valori di coppia potenza ovviamente non può eccedere sostanzialmente a una trentina di cavalli, questo per un motivo molto semplice, perché per avere più potenza bisogna dare più pressione soprattutto al sensore pressione turbina e questo comporta un aumento dei giri della turbina, un aumento del calore nel condotto di scarico avendo tutte le macchine recenti, ovviamente anche questa, sia il FAP che il catalizzatore, se io vado a incrementare in maniera oltre un determinato limite le pressioni, non riesce, lo scarico non riesce a buttare fuori quello che è la parte combusta, quindi venendo nello specifico a questa macchina, ecco contrariamente a quello che abbiamo fatto, perché quasi tutte le stelvio che ci sono capitate erano quasi tutte in garanzia, quindi abbiamo sempre utilizzato il concetto della centralina esterna riprogrammata in maniera tale che il cliente staccava il connettore, come abbiamo fatto vedere tante volte, portava la macchina in assistenza, loro attaccavano la loro diagnosi alla presa OBD e non veniva fuori assolutamente nulla da un punto di vista di modifica elettronica. In questo caso questa macchina ha qualche annetto in più, è una delle prime, è già fuori garanzia e quindi il cliente ci ha chiesto di fare lo stesso lavoro ma andando a modificare i parametri della centralina elettronica principale. In questi cavetti e questo sistema di connessione ovviamente vengono trasferiti i dati, viene letta la mappa, ovviamente questa è la centralina, questi sono i punti di connessione, noi abbiamo uno schema che ci viene inviato specifico per ogni macchina, quindi non è che i cavettini vengono messi a caso ma vengono messi nel pin giusto e seguiamo sempre quella determinata sequenza. In questo modo riusciamo a leggere la mappa, inviarla, modificarla, riceverla e ricaricarla nella centralina principale. Poi ovviamente in alcuni casi ci saranno da fare delle piccole correzioni, però diciamo che se la macchina è stock come in questo caso, cioè l'unica modifica che primamente è stata fatta è appunto la modifica della centralina elettronica, non ha senso scostarci o fare una mappa diversa da quella che è stata ottimizzata la prima volta su questo determinato tipo di motore. Quindi questo è un lavoro come dicevamo per avere un incremento di coppia, un incremento di potenza, sicuramente la parte diciamo di affidabilità rimane all'interno della soglia perché non andiamo oltre determinati percentuali di incremento. Uno dei vantaggi di questo genere di lavoro è soprattutto sulle vetture diesel, va bene anche sulle benzina però direi che sulle diesel si ottiene un risparmio anche in termini di consumi. A velocità costante la macchina genererà un numero di giri più basso perché il valore di coppia ovviamente viene aumentato. Questo sostanzialmente è il tipo di intervento che spessissimo ci chiedono di fare, poi come ti spiegavo prima può essere fatto con una centralina esterna riprogrammata o fatto direttamente sulla centralina principale. Comunque il risultato sostanzialmente non cambia. Vi direi che anche oggi per quanto riguarda il discorso rimappatura centraline e per quanto riguarda questa Stelvio 2002 turbodiesel è tutto. Vi invitiamo a contattarci in sede allo 0273 83 175. Durante il mese di giugno e luglio è in atto una promozione proprio sulle centraline elettroniche per cui se ci chiamate vi daremo dei raguagli in più su quello che può essere una scontistica diversa rispetto a quella che normalmente noi applichiamo durante il corso dell'anno. Come al solito vi invitiamo a consultare il sito www.nomilagiri.it cliccare sulla campanella in bassa destra e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto alla prossima! Ciao!